Il Comune di Magliano presenta la sua estate e lo fa con un progetto di marketing del territorio. Si parla di arte, tradizioni e cultura, sport e natura, cucina ed eventi. Quindi tutto questo attraverso un'operazione legata a un periodico. Questo sarà un punto di partenza importante per la promozione del nostro territorio che ovviamente vogliamo lasciarci alle spalle quanto prima al periodo bruttissimo della pandemia e credo che oggi sia l'occasione importante per la ripartenza. Ovviamente questo è un progetto che è in divenire, quindi dobbiamo lavorarci anche nei prossimi anni per lasciare un Comune che sia proiettato nel futuro per quello che riguarda la promozione del territorio. Quali sono i punti di forza di questo magazine? Una rivista periodica con delle uscite quindi programmate che permette quindi di avere delle notizie sempre aggiornate e sempre nuove però allo stesso tempo anche sempre diverse. procedendo con una strategia che diciamo è piuttosto lineare e coerente nella promozione del territorio. Un programma di eventi che si incentrerà molto sulla estate dantesca. Un viaggio culturale che toccherà tutti i paesi con spettacoli teatrali, spettacoli musicali che saranno però in accompagnamento alle celebrazioni di figure che abbiamo scelto per i tre paesi. Che cosa significa country branding? Significa partire da un marchio, significa fare promozione legata a quel marchio e significa portare queste icone in alfabeto visivo, il marchio di Magliano in Toscana attraverso la promozione del suo territorio.